Perché sono andata da un mio amico di nascosto Daninetto, il quale mi ha dato tutti i vari opuscoli e ho trovato dei test un po' freudiani, un po' jungiani e questo mio amico mi ha assicurato che questo test è l'ultimo test, cioè è l'ultimo test alla moda che in America ha spopolato. Allora adesso se voi prendete carta e penna, io vi faccio dieci domande, allora voi scrivete in linea giù, cioè in linea verticale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 10, e invece in linea orizzontale le o A o B o C, cioè una delle tre possibili risposte che io adesso vi dico. Allora, siete pronte? Io intanto strappo qua, siete pronte? Sì, ok. Allora, secondo voi effetti collaterali sono A, un leggero mal di stomaco, B, lesioni di un post innamoramento, C, l'ultimo best seller di Woody Allen. Seconda domanda, secondo voi mamma mia è A, un coltello in genere, B, un'esclamazione di paura di fronte a un pericolo incombente, C, una refurtiva in senso figurato. Sto scrivendo? Sì. Mezzo arancio, E, un arancio tagliato a metà, un cinese, ossia un mandarino cinese di bassa statura, oppure un ombrello. Negger è una negazione, ossia tradotto in italiano io nego, oppure una spia tedesca in perlustrazione, oppure un pregiudicato in genere, patacca, A, una macchia sul vestito, B, un rompiscatole appiccicoso, C, un orologio svizzero, 4, no, questa è la sesta domanda. Roba della luna, E, Escher, l'attrice americana che ha vinto l'Oscar per stregata della luna, che si è immedesimata nella parte e allora è diventata roba della luna stessa, oppure una meteora buttata sulla luna, dalla luna sulla terra, oppure sono oggetti provenienti da un furto, pulito, A, igienico, o lindo, sanitario, B, una nuova marca di detersivi, O, C, un uomo senza soldi, 8, fedele, è un uomo proprio maschile, neutro, proveniente dal latino fedro, oppure è un uomo fedele al suo cane, oppure è un cane da guardia, 9, ballerina, A, è una ballerina brasiliana di cacao meravigliao, oppure sono delle scarpette basse per esercizi ginnici, oppure è una sega circolare, 10, 10, questa è l'ultima domanda, bionda, è un diminutivo del film, agli uomini piacciono le bionde, quelle dove c'era Marilyn Monroe, oppure è una birra spumeggiante, oppure è una sigaretta estera, allora adesso avrete fatto il test, a tutte le risposte A, voi date 3 punti, a tutte le risposte B darete 2 punti e a tutte le risposte C darete un punto, allora tatatatatatatata, state facendo il conto? Ok, allora se avete ottenuto, 3 per 10, 30, se avete ottenuto 30 punti sarà, cominciamo, se avrete ottenuto invece 20 punti sarà in se invece avete ottenuto 10 punti sarà allegria cominciamo in allegria va bene a domani ciao a tutti